Buongiorno, oggi vi leggerò un'altra favola di Esopo, grande scrittore greco dell'antichità. Si intitola Il cigno preso per un'oca. Un uomo ricco allevava insieme un'oca e un cigno, naturalmente non per gli stessi motivi, il cigno per il canto, l'oca per la tavola. Quando arrivò il momento in cui l'oca doveva affrontare il suo destino, era notte e la circostanza impedì di distinguere l'una dall'altro. Il cigno allora, preso al posto dell'oca, intonò un armonioso canto, preludio della morte. Così, grazie a quella melodia, si salvò. La favola mostra che la musica spesso consente di differire la morte. Arrivederci.